Buongiorno amici, benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qui per fare il video dove assaggiamo un po' delle novità di Lidl, dei prodotti vegani della settimana vegana. Cercherò di mangiare più cose possibili in modo tale da recensire non tutti i prodotti che ho preso l'ultima volta perché sarebbe impossibile, però una buona parte. Anche perché alcuni li ho già mangiati, li ho già finiti, alcuni letteralmente divorati, man mano poi magari durante il video vi do anche i pareri sulle cose che ho già mangiato. Per fortuna per ora la maggior parte delle cose erano spaziali, altre cose un po' così, però andiamo per gradi e partiamo ovviamente dalla colazione perché farò una sorta di what I eat in a day però soltanto con i prodotti Lidl. Non so se mi sono spiegata, cioè vabbè penso che abbiate capito, quindi partiamo dalla colazione. Per colazione andrò ad assaggiare questo yogurt a base di cocco al gusto pesca che mi ispirava tantissimo, non l'avevo mai trovato prima d'ora quindi penso sia una novità. E poi voglio assolutamente assaggiare anche questi plum cake, tortini, non so bene come definirli, al gusto stracciatella. Vediamo un po' come sarà tutto. Allora su questo vado abbastanza tranquilla perché me ne avete parlato bene, io mi fio di voi e quindi penso che non mi dispiacerà. Anche se a volte le cose queste qua a base di cocco risultano un po' dolcine, un po' nauseanti, vediamo, ma ce la faccio a tenerla aperta o no? Oh, oddio arriva, un odore un po' strano ed è come se sul fondo ci fosse una specie di marmellatina con i pezzi alla pesca da mischiare. Ok, sembra abbastanza mischiato, assaggiamo. Ok, wow, questo è buonissimo. Me lo aspettavo decisamente più dolce. È dolcino eh, perché ecco sicuramente non si può dire che non sia dolcino, però non troppo. È buono, ma manca tanto la componente acidula che io cerco negli yogurt. Quindi buonissimo, per carità ogni tanto ci sta, ma non uno yogurt che mi mangerei sempre, però il sapore è veramente buonissimo. E ora tocca a loro. I plum cake alla stracciatella sono preoccupatissima, perché per chi ha visto il video dello svuota la spesa, avrà visto che io ho comprato sia questi che quelli al gusto vaniglia. Ecco, io quelli al gusto vaniglia li ho già assaggiati. E raga, non mi sono piaciuti molto. Avete presente quei muffin che ci sono sempre durante la settimana vegana, che vi ho fatto vedere appunto anche nell'ultimo video? Che io dico che sono veramente atroci, non li consiglio a nessuno, ecco. Secondo me hanno preso lo stesso impasto di quei muffin e ci hanno fatto i plum cake. Questi però sono la stracciatella, vediamo se hanno qualcosa di diverso o se sono altrettanto terribili. L'odore non promette bene. No raga, sembra di masticare gomma. Quindi già la consistenza in sé non mi fa impazzire, però posso sorvolare. Ma il sapore ha un sapore proprio artificiale, super dolce. Non lo so raga, onestamente non mi fanno proprio impazzire. Comunque meglio dei muffin, forse perché sono più piccolini, quindi non rischi il soffocamento quando li mangi. E questi qui alla stracciatella decisamente meglio di quelli alla vaniglia. Quelli alla vaniglia sono di un nauseante che non avete idea. Assicuratevi di avere con voi qualcosa da bere, perché sennò veramente mi si blocca tutto qua in gola e non respirate più. Quindi yogurt approvato, però manca la componente acida, quindi comunque mi stuferebbe dopo un po'. Questi non lo so raga, cioè sono quel gusto artificiale chimico che inizialmente mi fa dire no 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 no, però sento che poi dopo mi piacerebbero. Cioè non so come spiegarvelo. Tipo una cosa che al primo impatto assolutamente è un no. Poi a forza di mangiare ho detto no, però sai che c'è, forse non è così male. Quindi non saprei. Comunque non la mia cosa preferita, ecco. Comunque io mi finisco tutto e ci vediamo dopo con il pranzo. E sto preparando il mio pranzo. Allora, penso che farò un primo piatto perché voglio andare a provare uno dei sughe che avevo preso, su cui ho molte speranze, molte aspettative, perché anche qui voi mi avete detto è spaziale. Gente che si è pentita di averne preso soltanto un barattolo. E anch'io ne ho preso solo un barattolo di questo specifico, quindi magari tornerò a Lidl sperando di trovarne altri, se mi piacerà. E poi voglio anche fare una specie di degustazione, chiamiamola così, di altre cosine che ho preso. Cercherò di dare un senso a questo pranzo. Nel caso non l'avesse non importa, perché non interessa provare i prodotti. Il senso va oltre a questa cosa. Quindi preparo il tutto, ci vediamo appena è pronto. Per pranzo ho preparato queste bavette che ho condito con il pesto vegano alla Calabrese, che è uno dei prodotti nuovi di Lidl. E sì, praticamente l'ho già finito, perché ho fatto due piatti di pasta, forse ho esagerato un po' con il condimento. Vabbè, meglio abbondare, meglio abbondare. E poi andremo a fare questa degustazione di questi due formaggi vegani nuovi. Uno è lo spicchio, che dovrebbe essere tipo grana, non lo so, vedremo, lo scopriremo. E l'altro invece è questo quadrotto alla Mediterranea. Non lo so, raga, non so cosa aspettarmi. Il pesto promette molto bene a Gabri, che l'ha già assaggiato. Ha detto che è buono, quindi mi fido delle sue papille gustative. Vediamo se è vero o se sta mentendo. Ok sì, è stra buono. Me lo immaginavo un pochino meno piccante, perché c'era soltanto lo 0,2% di peperoncino. Invece devo dire che un po' si sente il piccantino. Però buono, veramente molto 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 buono. E un po' mi pento effettivamente anch'io di non averne preso di più. Però non sapevo cosa aspettarmi. Mi sa che se riesco, oggi o domani, che sono ancora all'interno della settimana vegana, faccio un salto di nuovo al leader, perché ci sono troppe cose che vorrei riprendere. Magari non trovo più nulla, perché hanno saccheggiato tutto. È probabile. Però ci provo, tanto è vicino. Non ci metto tanto ad arrivarci. Vediamo, incrociate le dita per me. Però, anche se è molto molto buona, la metto un secondino da parte, perché voglio fare la degustazione. Poi dopo, quando finisco di filmare, mangio il tutto. C'è Ammit che sta borbottando sottofondo. Cosa vuoi? Cos'hai da borbottare tu là dietro? Allora, questo qui, da quello che ho capito, a dire il vero, bisognerebbe tipo grattugiarlo sulla pasta, una cosa del genere. Però io non sono una super fan del formaggio sulla pasta, devo essere sincera. Infatti, non lo compro spesso, tipo il grattì, queste cose qua. Quindi preferisco assaggiarlo così. Oddio, l'odore è un misto un po' strano. Un po' mi ispira, un po' mi terrorizza. Però non so se ve l'ho detto, neanche non lo svuota la spesa, questi due formaggi in particolare non mi ispirano. Cioè, secondo me non mi piacerà ne uno ne l'altro, però è doveroso per la scienza provarli. Allora, vediamo. All'olfatto percepisco un odore tipo pecorino, però che sa tanto di cocco. Cioè, non so come spiegarvelo, cioè non sembra una buona combinazione, proviamo. No raga, sto per piangere e non di commozione. Atroce, ha esattamente il sapore che temevo avesse. No, no. Secondo me ha senso tipo in qualche preparazione, tipo pasta al forno, lasagne, perché va mischiato. È molto sapido, è molto salato, quindi darà un po' di sapidità al piatto, ma così ho anche grattugiato sulla pasta. Per me è un no. Andiamo adesso a provare questo, che secondo me sapete cos'è questo? Avete presente il formaggio a fette, che io amo del Lidl? Quello ha il gusto mediterraneo. Secondo me è quello, semplicemente non ha fette, ma in formato quadrato. Però se quello mi piace, dovrebbe piacermi anche questo. Però non lo so, non lo so, non voglio illudermi, capite? Anche questo ha il gusto mediterraneo, quindi. Ok, il profumo è buonissimo e mi sembra esattamente quella roba lì che vi sto dicendo. Però almeno questo magari si scioglie anche bene. Vabbè, assaggiamolo. Forse questo non mi farà piangere. Let's go. Buono, raga, è quello. Esattamente quello a fette fatto in versione cubetto. Quindi sì, è buono perché quello mi fa impazzire. Magari può essere utile se vogliamo fare delle cose tipo sulla pizza, magari si scioglie meglio rispetto che la fettina. Però va bene, cioè non lo ricomprerei perché sono più comoda con quello a fette. Però buono, il gusto è veramente buono. Comunque ora io mi finisco il mio pranzo, anche perché la mia pasta sarà diventata fredda e tutta incollata, ma vabbè. E ci vediamo dopo con la merenda. Oh, dopo un po' di commissioni sono qui per fare la merenda. Ho abbastanza fame, perché ho fatto un po' di cose, un po' di movimento. E meno male, perché la mia merenda sarà bella sostanziosa. Infatti per merenda andrò a provare i gelati coni, questi di gusto classico diciamo, la barrettina al gusto cocco. Di queste ne ho prese due, una al peanut butter e caramello, se non sbaglio. E questa qui, non ho ancora provato nessuna delle due. E poi il nostro prosciutto vegano. Questo mi ispira parecchio, eh. Partiamo dal gelato, anche perché sennò mi si scioglie. Gusto classico, io personalmente preferisco quello alla marena, infatti è quello di Amando Armando. Mi piace parecchio, però così proviamo anche questo. Mmm, buono. Mi piace parecchio. Si sente molto il gusto delle nocciole sopra, cosa che non mi aspettavo. Mentre per il gelato in sé, si sente che è vegetale. Però la cosa non mi disturba, anzi. Da ogni ora non apprezzavo troppo il cornetto come gelato. O comunque in generale, tutti quei gelati che avevano una base di fior di latte, cosa del genere, perché sentivo proprio quel retro gusto muccoso che ti rimaneva in bocca, non mi piaceva. Questo invece ovviamente non ce l'ha e quindi mi piace. Volevo sentire anche un attimo la cialda. Buonissima. Forse mi piace più la cialda del gelato in sé, veramente buona, croccante, approvata. Ora vorrei provare il prosciutto, cioè l'affettato vegano al gusto prosciutto. A dire il vero, io ho già assaggiato il salame e raga, mamma mia, quel salame era pazzesco. Infatti prima sono tornata al leader a ricomprare un'altra confezione e per fortuna l'ho trovato e ho trovato ancora poche cosine che avevo già provato, mi sono piaciute tantissimo e le ho ricomprate. Ma è stato bellissimo vedere il reparto coi prodotti veg nuovi svuotato letteralmente raga. Qui qualcosa sta cambiando, meno male, sono contenta. Però questo prosciutto non l'ho ancora provato, il profumo mi ispira tantissimo, è buonissimo, molto speziato, mi ricorda qualcosa ma non riesco a capire cosa. Assaggiamo. Madonna è buonissimo, pazzesco raga. No ma è una bomba. Mi ricorda un qualche affettato di origine animale, forse tipo la bresaola, ma non proprio bresaola, non capisco, non mi viene in mente però, wow. No, questo mi è piaciuto veramente tanto. Non tanto quanto il salame, ma siamo lì, siamo lì, buonissimo. E ora manca solo la nostra barrettina. Oddio, ma ha un colore che non mi aspettavo sinceramente. Beh, giustamente, è al cocco quindi. È bianca, boh, nella mia testa non so perché me la immaginavo scura, non lo so. Ha un profumo di cocco pazzesco, una consistenza un po' strana, inaspettata anche questa. Vediamo il sapore com'è. Stra buona anche questa. Quindi raga, merenda approvatissima, cioè va oltre l'approvazione. Una cosa più buona dell'altra, se dovessi fare una classifica metterei al primo posto il prosciutto. Assolutamente sì. Al secondo posto la barretta e al terzo posto il gelato, però veramente wow. Complimenti a tutti e tre i prodottini. Dopo questa bella merenda, io adesso aspetterò un bel po' prima di far cena, anche perché sto facendo merenda alle 18.02. Signori, alle 18.02 ho mangiato queste cose per merendare. Vabbè, farò cena probabilmente alle 11.00. Farò cena, madonna raga, sto parlando come i torinesi. Io ormai torinese farò cena non l'ho mai detto in vita mia. Sì, è una forma un po' strana, ma perché lo dicono qua, farò cena e altre cose strane dicono. Vabbè, lasciamo stare comunque, cenerò probabilmente un po' tardi, ma comunque vi filmerò il tutto, quindi ci vediamo dopo. Ed ecco qui pronta la mia cenettina. Sono andata sui surgelati, tutti i surgelati che ho preso, quasi tutti. Abbiamo infatti questi pezzi di avocado impanati. Raga, io veramente non so cosa aspettarmi, questa cosa non mi ispira per niente, ma era troppo strana per non provarla. Poi questi stick di patate dolci, che poi sono tipo patate e carote, una cosa del genere, questi mi ispirano molto. E poi onion rings, gli anelli di cipolla, che sono la cosa più buona nel mondo, dannazione. Il tutto accompagnato da questa salsina, che è una salsa alle erbe, non so dirvi molto di più, restamente. Allora, io mi sentirei di partire dagli stick di patate dolci, perché per ora non voglio andare sull'avocado. No, l'ho già messo nella salsa, no, aspettate, volevo provarne prima uno senza salsa. Così, al naturel. Probabilmente scotta un po', mi ostionerò. Bene. Non sono come me l'aspettavo. All'interno c'è una sorta di purea e dei pezzi di carota. Buoni, eh? Per carità, buoni, però non come mi aspettavo. Però, aspettate, voglio provare con la salsa. Mmm, salsa spaziale. Sapete di cosa sa? Avete mai preso da McDonald's il panino quello col pesce? Il filetto fish, mi sembra si chiami? Oppure sono l'unica persona al mondo che mangiava quel panino. Se l'avete mai provato, la salsa di quel panino è questa. È identica, raga, sa proprio di quello, buonissima. Con la salsa perlomeno non rimaniamo delusi. E poi non sono delusa. Sono solo strano e diverso da come mi aspettavo. Vabbè. Direi a questo punto che mi sento abbastanza impavida per provare loro. Queste fette di avocado impanate. Cioè, secondo me non ha senso, capite? Perché uno dovrebbe mangiare l'avocado caldo, impanato? Non lo so. Però a volte si fa anche con la frutta, quindi magari invece è buono. Basta blatterare. Proviamo. Che paura. È così strano. È così piccante. Non pensavo fosse piccante, ma non capisco se mi piace oppure no. In realtà, raga, vi dirò, non è male. Cioè, pensavo proprio peggio, qualcosa di immangiabile. Invece non è male, ci sta. Però, cavolo, è piccantissimo. E anche qui, secondo me, la salsa ci sta molto bene. Sì, abbastanza. Passiamo ora agli anelli di cipolla. Questi spaziali. Nulla da ridire, buonissimi. Quindi dai, tutto sommato, non male. Prima di concludere, volevo consigliarvi altri due prodotti che ho già provato, che mi hanno mandato fuori di testa, che sono i formaggi spalmabili a base di lenticchie, quello al gusto erbe e quello al gusto peperoni. Raga, raga, fuori di testa, veramente, sono tornata a riprenderli perché erano troppo, troppo buoni. Buon, raga, a questo punto direi di scegliere un bel hashtag della fine da scrivere qui sotto nei commenti. E l'hashtag della fine potrebbe essere. Ce l'ho, raga, facciamo hashtag avocado impanato, perché mi ha stupita. Devo ammettere che mi ha stupita. Era la cosa che temevo di più in assoluto, quindi sì, hashtag avocado impanato, scriverò qui sotto nei commenti. E mi raccomando, fatemi sapere anche le vostre opinioni. Cosa ne pensate dei prodotti che avete acquistato, se li avete acquistati, cosa vi è piaciuto, cosa non vi è piaciuto. Vi siete trovati d'accordo con me o in disaccordo durante queste recensioni? Fatemi sapere. Io vi ricordo che in descrizione vi lascio tutti i link di tutti i miei social, così se vi va potete seguirmi anche lì. Vi ringrazio tantissimo, come sempre, per essere rimasti con me anche in questo video. E noi ci vediamo al prossimo. Ciao! Ciao! a presto